Ah, che corsa! Sì. Ma dove andate? Certo che i figli mantengono in forma, eh? Anche le fette biscottate. Per incominciare bene la giornata, fai una colazione leggera e naturale con le fette biscottate del Molino Bianco, fatte di tanto buon grano. Mangia sano, torna alla natura, con Molino Bianco Barilla.